La natura e la sua straordinaria capacità creativa sono alla base del nostro lavoro. I marmi e le pietre che Petra Antiqua utilizza sono il risultato di un lunghissimo processo di trasformazione della roccia sedimentaria, grazie a particolari condizioni di temperatura e di pressione che si sono venute a creare nel corso dei millenni. Il viaggio che porta il prodotto finito si snoda attraverso numerose tappe che vedono l'impiego delle più recenti tecnologie unite all'esperienza della nostra manualità. La prima operazione è l'estrazione dei blocchi dalla cava, che può essere in galleria oppure a cielo aperto, con l'uso di segatrici a nastro, filo diamantato o da altre tecnologie di estrazione. Segue lo stoccaggio dei blocchi estratti a deposito. Qui il materiale può essere collaudato dai nostri tecnici prima dell'acquisto. Nelle immagini si può vedere un deposito di blocchi di rosso asiago. Il colore di questo, così come quello di altri materiali, dipende dalla presenza di impurità minerali, esistenti in granuli o in strati all'interno della roccia sedimentaria originaria. Dopo l'estrazione dalla cava, il blocco viene tagliato per ricavare il semilavorato grezzo. Il semilavorato grezzo viene stoccato a magazzino. Da questo magazzino, il semilavorato grezzo viene successivamente prelevato per le ulteriori fasi di produzione che porteranno alla realizzazione del prodotto finito attraverso la lavorazione sui lati, sullo spessore e sulla superficie della marmetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla fine delle linee di produzione, i nostri operatori procedono alla selezione e alla scelta del materiale che è successivamente pronto per il confezionamento. La realizzazione dei mosaici prevede ulteriori fasi, come il taglio delle tessere su linee automatizzate ed il montaggio su rete delle stesse, che avviene invece in maniera manuale. La realizzazione dei mosaici prevede ulteriori fasi, come il taglio delle tessere sui lati, come il taglio delle tessere sui lati. Petra Antiqua dispone di un reparto con personale dedicato che si occupa esclusivamente della preparazione di sistemi espositivi e campionature per supportare al meglio i propri clienti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.